La polizia greca ha arrestato un uomo sospettato di aver compiuto l'attentato con una lettera bomba che nello scorso maggio ferì seriamente l'ex premier Lucas Papademos e altre due persone che erano in auto con lui. L'indagato, un 29enne il cui nome non è stato reso noto, sarebbe anche coinvolto nell'invio nel marzo scorso di plichi esplosivi al Ministero delle Finanze tedesco e agli uffici parigini del Fondo Monetario Internazionale dove una persona rimase lievemente ferita. Papademos, 70 anni, premier tecnico per sei mesi dal 2011 al 2012 ed ex vicegovernatore della Banca Centrale Europea riportò ferite al torace e a una gamba e rimase in ospedale per più di un mese.